Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in Andralink e benvenuti nell'episodio finale di Bakugan Campioni di Vestroia Sì, oggi finisce questa serie Insomma, non è durata poi molto, anche se però ci sarebbero ancora alcune cosucce da fare E non ho mostrato diverse missioni secondarie Che non consistevano esattamente nel combattere contro altri Bakugan Ma più consegnare oggetti, trovare cose, insomma, un po' una chiavica Per oggi, mettiamo la parola a fine, all'avventura O almeno credo Aha, guarda che bel posto Solo ultimo piano Per cosa? Non si sa Non lo so I prezzi del caffè sono esagerati Dimmi il prezzo, quanto costa un caffè? C'è la fila Ah, ma ci sono anche... Ah, attenzione Questa è cosa importante Dunque, stavo dicendo che dal momento che Bakugan genera una energia infinita a costo zero È tutto puro profitto Nulla potrebbe andare storto C'è un prezzo da pagare, e non va bene Pensa agli affari tuoi, ma il mio Bakugan ha parlato, non io Adoro mangiare le brioche allo steno La parte migliore della giornata No, questo... Dove devo andare, però? Ah, devo parlare con la receptionist Beh, è un appuntamento con il signor Paras? Eh, sì, ce l'ho Ok, allora prendi l'ascensore alla fine di questo corridoio e sali al piano di sopra Niente, birichinate Ah, quindi posso anche decidere... Una valigetta? No Ah, i bicoin Ma chi è che lascia gli hamburger interi? Ma vergognatevi Non sanno che sono io? Sei tu l'intruso? Fermati Ma chi te sa che sono io l'intruso? Scusami Guardia Valra Cioè, io vado lì e dico Faccio scherzone, gli passo a fianco No, c'è un intruso Ma io direi di fare evolvere Axillateur O Axillataur, non lo so come Axillataur Axillateur Non lo so, ragazzi, come si dice di preciso Comunque molto molto bello Sconfitto anche l'ultimo E recuperiamo questa valigetta, no? Cosa c'è qui? 150 bicoin Sì, ora i soldi ce li regalano Cosa? Ah, devo prendere Axillateur Certo È un ascensore Andrea Eh, dai Oh Proprio me la godo la camminata Eccola qua Ma allora Preston, ci rivediamo Cosa? Non ci credo Come hai fatto a entrare qui? Papà È quella persona odiosa di cui ti parlavo Allora fai parte di quelli che hanno cercato di sabotare le nostre operazioni Devo ammetterlo Sono impressionato Hai talento con i Bakugan Non ti fermi davanti a nulla Forse potresti avere un futuro qui alla Parasol No, non credo Milusinga Ma non sono qui per un collo a cui di lavoro Deve sapere che il suo piano di rubare l'energia da Bakugan è davestrone e pericoloso Deve fermarsi immediatamente Appropriarsi dell'energia della cupola e di Vestronia Può portare alla distruzione di Vestronia Cosa che significerebbe la fine per tutti i Bakugan Non è troppo tardi Ma devo implorarla di fermare queste operazioni Distruggerà Vestronia se continua così E quale sarebbe il problema? I Bakugan e Vestronia sono un dono Sarebbe stupido non sfruttare questa opportunità Ora che ne ha conoscenza non le importa nulla? Non te lo aspettavi vero? Noi qui vendiamo un servizio Un servizio utile al mondo Al nostro mondo Posso darti le Bakugan con un enorme potenziale Tutto quello che devi fare è smettere di sabotare la nostra compagnia E nessuno potrà mai batterti in combattimento Ora sembra che sia lei quello confuso La sua azienda avrebbe dovuto chiamarsi Parassita Perché è questo che è E non mi fermerà finché non lo farete anche voi Beh, si chiama Paras Viene da sé Come vuoi Preston, liberate di queste seccature del suo Bakugan Consideralo fatto Dammi quei Bakugan, ora Ma io non ti do niente E ti la prende se li vuoi Ma chi sei? Tra l'altro Lui ha tutti i Darkus Tranne uno che era Ventus, mi sembrava House Non l'ho visto bene ora Ah, eccolo Sì, Acquos Inizierei con cremazione Non con cremazione Con vortice di fuoco se non sbaglio Quindi, ecco Gli facciamo bruciatura Così tanto per fare Tanto per gradire, no? Ecco Poi gli facciamo La palla di fuoco Maximus Anche se lui ha fatto corrente Maximus Che gli dà corrente e fretta Ma io ti faccio Un 2000 danni Con palla di fuoco Maximus Ah, resistente Quindi prende la metà Ok, ok Mi congederà il cervello Ah, però sono resistente Il fuoco che resiste all'acqua Non si vede tutti i giorni Ma lo prendiamo Lo prendiamo per quello che è Buono 704 Ancora Ah, ok Dovrò andare con un'altra Con un'altra attacco allora Ah, no È stordito No Oh, io non posso fare nulla Se non rubare questi a Preston Ok, ora posso attaccare Abbiamo un'altra palla di fuoco Titan Ovviamente Devo alternare un po' Gli attacchi più forti A quelli più deboli Perché beh Non è che posso fare solo attacchi forti E in teoria Corruzione dovrebbe Ehm Togliermi Fare dei dottini ad ogni turno Ma ti ho fregato Ma ti ho fregato il core L'annulliamo Ehm Fulmine notturno Ok Sacrificio Amita fretta E fa un po' di danni Liquidardi Maximus Per Axillataur Insomma Lo dico un po' Come viene il nome Non riesco a decidermi Bene Un bel 600 inrotti Perfetto E uno in meno Oh era duro Quando manda giù quello E Accidenti a lui Barbetra che è Un Bakugan bellissimo Però Devo purtroppo Mandarlo KO Non posso fare altrimenti È molto forte Tra l'altro Con Laser Aquos Dovrei sconfiggerlo Gli basta? Sì Preciso Proprio preciso Wow Bene Ah È già andati? Ah è vero Ok È stato piuttosto veloce Anche senza attacchi di squadra Anzi mi sembra di aver fatto prima Presto ne hai perso Sapevo che avrei dovuto occuparmene io Preparati per una vera sfida E ora ho paura Richard Paras Ai 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 Contro il capo in persona Ok ce l'ho io il Bakugor Più vicino Perfetto Vieni qui Chissà se Lui è il boss finale Per davvero Perché Hai Maximus Non hai Diamond O Diamante Quello che è Molto particolare Non importa Io Va bene Così va bene È giusto È giusto Speriamo di beccarlo Perché ha schivata più Preso Grande Ah ragazzi Sono molto molto Curioso di vedere Se questa è davvero L'ultima lotta Ma il ritardo non fa nulla Datemi De Bakugor Oh no Mi fa un abbraccio Stretta da Darkus Mi stritola Mi dà un abbraccio da orso Tu devi stare bravo Orso E non mentre attacco Per l'amor del cielo No Meno male Perché una volta È successo Che abbiamo avuto Io e il computer Un timing perfetto E io ho attaccato Proprio nel momento In cui l'ha premuto cambio E non gli ha fatto nulla L'attacco è andato a vuoto Quindi con un timing perfetto Proprio Sarà proprio Frame perfect Quindi Interessante Cioè È una cosa stupida Che ti fa dire E che cavolo Però Se ci pensi Ai 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 ragazzi Siamo deboli Al Darkus Noi con Accelateur Ah ho l'attacco di squadra Oh Mi dimentico sempre che Ho gli Bakugan carichi Dragonoid pensavo di non averlo carico Invece sì Va bene Il che va bene Cioè Ok Però almeno un po' Me la sono giocata Allora Signor Richard Paras Tutta fortuna Ma la tua vittoria Non cambia nulla Quando Preston Vincerà la finale Del Torno di San Barbaras Con la nostra arma segreta Avremo il supporto Di tutti i combattenti E del loro Bakugan La gente rispetta il potere E nessuno è più potente Della Parasola E della nostra nuova arma segreta Anche tu E la tua fortuna Non avrete alcuna possibilità Contra di noi Il tuo misero tentativo Di sabotare i nostri Pieni ridicolo I bambini come te Non possono cambiare nulla Ora vattene da qui Hai fatto sprecare Tempo prezioso a tutti Ah ragazzi Allora ci aspetta Un altro episodio Probabilmente Ciao ragazzi Quindi si Sapeva tutto E ciò che è peggio Non gli interessava Far del male ai Bakugan Che bastardo Ehi Sì In un gioco PG7 Abbiamo bastardo Yeah Non me l'aspettavo Quindi qual è La nostra prossima mossa Come li fermiamo Beh Ha parlato di un'arma segreta Che useranno per vincere la finale Oh no Non hai idea di che si tratti Non lo so Ma continuo a pensare A Bakugan Supercarico Che ho visto a Elena Heights Non vorrei dover combattere Di nuovo contro uno di quelli No Penso che piano migliore Sa continuare a combattere Per sconfiggerli al torneo Ho battuto presto Ogni volta che abbiamo combattuto Due volte Penso di poterlo battere Ancora una volta Devo continuare a vincere i tornei Finché non arriverà Alla finale Quindi praticamente La vera storia Sarebbe finita Ma quindi Questo è tipo Il post game Allora Devo andare a Cittavecchia A vincere la semifinale Del torneo Anzi Adesso la faccio E vediamo poi Cosa succede Dove si terrà La vera finale Perché poi L'episodio appunto Finale proprio Che chiamerò Post game A questo punto Si terrà La lotta Contro Preston Va bene Allora vinciamo in fretta e furia Questo torneo Che tra l'altro Questo torneo Lo stavo già facendo Ieri Perché ho registrato Ieri L'episodio Che avete visto Lunedì Non so quando Caricherò questo Ma Ho abbandonato Perché avevo raggiunto Lo scopo Di arrivare Al livello Diamond Con i miei Bakugan Quindi Boh Facciamo una cosa Piuttosto veloce Questi qui poi sono ancora Hyper E non Neanche No sono titan Questi Tra l'altro C'è quel signore Lì che sta a sedere E Sono tutto tipo Proprio disinteressato Totalmente alla lotta E c'è uno che si chiama Mena Questo Mena Iscrivetevi per altre Battute di alto livello E anche questo è andato ragazzi Tra l'altro Senza attacchi di squadra Perché hanno tutti Intorno ai 1000 6.007 Punti di vita Quindi alla fine Con attacchi normali Ce la facevo Santi Numi Hai vinto il torneo Rusty non scherzava Quando ricevi Cario mi rosso duro Beh Qualche ricompensa È d'obbligo E ora puoi andare Quarti di finale Continua così E potrei partecipare Alla finale Nel centro città Il torneo per i quarti Si svolgerà nel Central Park L'aria è un po' troppo Burda per i miei gusti Ma dovresti andare lì E partecipare I quarti Ma hai detto Che era la semifinale Questa Allora mi ha preso in giro Stavo pensando A quel torneo Nella città vecchia È stato così divertente Se ci siamo appena Ci siamo ancora Penso che Crello Abbia detto Che ci sarebbe stato Un torneo al parco Vediamo se stanno Preparando un torneo Vai al club di combattimento Di Central Park Per vedere Se i quarti di iniziale Di finale Stanno per iniziare Ma lui mi ha detto Questa è la semifinale Quando ci sono andato a parlare L'altra volta Cioè ieri Poi ho abbandonato Poi ho abbandonato Ok ma Allora ragazzi L'episodio termina qui Io mi affronto I quarti di finale La semifinale E poi la finale Appunto Registrerò Parte dell'episodio E poi Il combattimento finale Contro Preston Che sarà sicuramente Più difficile Di quelli affrontati Finora Ragazzi E come sempre Vi ringrazio Per aver seguito il video Shoutout Dalla YouTube Start Game E come sempre In descrizione Trovate il link Per Instagram E se ancora Non siete iscritti Al canale Magari iscrivetevi a noi Ci vediamo Come sempre Nel prossimo video Bye bye